100 anni di gran premio d'italia molte iniziative di automobil club milano è proprio così cento anni fa l'automobile club di milano ha gettato il primo seme ha fatto disputare il primo gran premio d'italia all'epoca montichiari in provincia di breccia per poi l'anno successivo portarlo qua monza e iniziare questa grande epopea quest'anno festeggiamo i 100 anni dal primo gran premio d'italia e l'anno prossimo festeggeremo i 100 anni dell'autodromo nazionale di monza un grande momento di festa e di gioia che si unisce una festa in generale dello sport una festa che celebreremo con tutti gli olimpionici italiani che hanno avvento la medaglia d'oro